Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books vado a mettermi il rosetto Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books io sono Tiffany e oggi siamo qui per qualche consiglio a tema LGBT Plus e Queer perché ovviamente questo è il Pride Month e quindi penso sia estremamente importante insomma raccontarvi qualche titolo che potete mettere nelle vostre TBR o comunque iniziare ad acquistare sono titoli che tendenzialmente io ho accumulato quest'anno quindi sono abbastanza recenti e che ancora non vi ho potuto consigliare in video dedicati proprio alla comunità queer e quindi insomma giù nell'infobox intanto trovate il link ai miei vecchi consigli in generale io penso che un modo molto potente per rappresentare le persone LGBT Plus e Queer sia proprio quello di inserirli all'interno di storie che raccontano molto altro magari perché penso che l'editoria e la letteratura debbano quanto più possibile normalizzare la rappresentazione all'interno di storie che parlano anche di altro e infatti parleremo di qualche titolo fantasy che fa esattamente questo ma non solo altre volte su altri titoli mi soffermerò invece su delle autobiografie mi soffermerò su storie che raccontano molto altro un altro anche mezzo che io amo molto per ascoltare e insomma per recepire delle storie queer è il fumetto io penso che i fumetti abbiano una potenza e un'efficacia allucinante quando si tratta proprio di rappresentare storie queer perché penso sia davvero arricchente esplorare molte voci e molte comunità all'interno della comunità LGBT quindi oggi affrontiamo storie che hanno a che fare con la transessualità con l'interessualità con la comunità lesbica con la comunità gay con la comunità bi con le persone non binary con le persone gender queer eccetera eccetera quindi direi che è arrivato il momento di iniziare allora il primo libro di cui vi parlo è Phantomine di Laura Lem che io ho letto da pochissimo che mi è piaciuto davvero in maniera immeritata nel senso che ha tanti difetti Phantomine aggiunge cose che secondo me un editing migliore avrebbe potuto tralasciare tranquillamente ma fatta questa premessa che non è significativa per raccontarvi il libro io l'ho adorato perché dentro Phantomine c'è Mika Gray Mika Gray è la figura centrale dentro Phantomine e qua insieme a Mika affrontiamo il tema dell'interessualità infatti Mika è una persona intersessuale anche se dentro la storia tendiamo a seguire quella che è la sua identificazione di genere o comunque con la sua espressione di genere che si avvicina sempre di più a quella maschile per questo io userò per chiamare Mika molto spesso il pronome maschile che è quello che tendenzialmente sceglie di usare all'interno della sua storia però in realtà Mika è una persona che si sente molto a cavallo molto a metà è stato cresciuto come una ragazza dalla propria famiglia ma ha sempre avuto dentro di sé questa voglia di esprimersi anche e soprattutto secondo i propri gusti insomma che spesso si identificavano con quelli del fratello quindi con un'espressione più maschile e anche se è stato cresciuto come una ragazza e quindi insomma quello è il genere prevalente che le è stato assegnato dalla famiglia è una persona intersessuale nella saga di Mika Gray chiaramente seguiamo un personaggio che sempre di più si identifica come maschile anche per una serie di cose che succedono all'interno della storia comunque che cosa racconta Pantomime perché siamo qui a parlarne e perché a me è piaciuto così tanto al di là del fatto che ti piace vincere facile siamo al circo quindi a Tiffany il circo piace e molto la trovo sempre una location molto affascinante perché permette di trasportare personaggi soprattutto anche in tante storie che è una cosa che capita spesso che hanno a che fare con l'intersessualità o con la transessualità di trovare una dimensione molto distaccata da tutto dove l'espressione non viene negata dove l'espressione non viene osteggiata ma anzi viene incentivata viene considerata un valore è chiaro che poi nella realtà ha tutta un'espressione diversa però all'interno del circo effettivamente nella letteratura si tende a dargli quel valore soprattutto quando si parla anche di temi queer temi comunque legati alla comunità LGBT+, estremamente legata all'espressione di sé e a un luogo sicuro dove potersi esprimere comunque tornando insomma alla storia di Mika Mika è una persona che è appena arrivata al circo dalla disperazione decide di scalare il palo e buttarsi sul trapezio diventando così un trapezista e quindi viene assunto dal circo viene preso dentro il circo come apprendista degli acrobati proprio perché in questa coppia di acrobati che già lavorava nel circo uno dei due, il più anziano è molto stanco e non ne può più quindi deve trovare un sostituto da allenare e da istruire Mika ovviamente trova un po' la sua dimensione nel circo ma man mano che andiamo avanti vediamo il suo percorso all'interno del circo e lo sviluppo della sua carriera lo sviluppo delle relazioni all'interno del circo e ci racconta sempre più di sé ma in parallelo ci racconta ciò che gli è successo prima ovvero la famiglia che lo ha cresciuto come una ragazza e che si è trovato a fare i conti con l'interessualità in un'epoca in cui si sapeva poco in cui era vista come qualcosa di difficile da gestire e dove anche la medicina non dava risposte a questo punto la famiglia trova un dottore che ha delle risposte in più ma sono risposte che spaventano terribilmente Mika che aveva anche un altro nome diverso nella sua famiglia e un giorno è talmente spaventato che decide di fuggire fugge e dopo un viaggio un po' travagliato aprò dal circo e qua trova tutta la sua nuova dimensione nonostante debba affrontare grandissime sfide Phantom Hime secondo me è un libro scritto in maniera molto disomogenea perché ad esempio ci sono dei punti che sono estremamente forti ad esempio la psicologia di Mika gli ho trovato Mika un personaggio incredibile scritto davvero bene e davvero alla fine io volevo un bene immenso a questo personaggio e penso che Mika Grey sia un perfetto modo per raccontare l'interessualità anche perché ho apprezzato molto il suo essere sempre molto a cavallo è una persona che tende ad esprimersi al maschile ora che ha trovato una certa libertà e non è più condizionata da una famiglia che voleva inquadrarla in una vita molto diversa però allo stesso tempo riesce a trovare la sua dimensione e riesce sempre di più a esprimersi e a trovare nelle sue difficoltà invece anche un lato positivo in tutto questo ci inseriamo anche in altri contesti che secondo me sono raccontati molto bene la difficoltà nelle relazioni il dubbio dell'essere sempre onesti nei confronti degli altri e quanto è giusto raccontare e raccontarsi in cose molto personali chiaramente perché in questo caso ci troviamo di fronte a cose e questioni molto personali allo stesso tempo una delle cose che più secondo me è fortissima nel libro è il rapporto col fratello il fratello di Mika è esattamente la persona che io mi auguro chiunque possa avere al proprio fianco perché protect at all cost e davvero questo è un libro che ha tanti difetti io me ne rendo conto ma nonostante i difetti è un libro che vi rimane dentro tantissimo perché questo personaggio è incredibile e soprattutto è incredibile anche seguire un po' tutto il suo percorso la storia, l'impostazione funziona la scrittura è estremamente piacevole ed è scritto davvero bene nonostante i difetti è scritto veramente molto bene più c'è la dimensione del circo che ragazzi noi amiamo e apprezziamo sempre forse questa è una promessa che dovevo fare subito ovvero che purtroppo Pantomime che è una trilogia io però l'ho letto solo il primo non so se continuare devo essere sincera perché il primo mi è piaciuto così tanto però bastava anche un po' quello secondo me è un buon autoconclusivo nonostante la serie sia stata continuata detto ciò Pantomime c'è solo in inglese non c'è ancora in italiano qua davanti e il secondo consiglio anche questo purtroppo solo in inglese è un titolo molto carino che io ho letto a dicembre perché mi era arrivata la copia Ark che si chiama Black Flamingo l'autore è Dina Atta e la storia che seguiamo è la storia di Michael che è un ragazzo mezzo giamaicano mezzo cipriota che cresce però in Inghilterra da sempre ha avuto interessi che tendenzialmente la società non identifica con quelli dei ragazzi e invece si è sempre dimostrato molto creativo molto appariscente e ha sempre avuto un sostegno importante che è quello della madre quindi in famiglia ha sempre avuto questa grande forza di riuscire a tradurre ciò che era la sua personalità senza freni e Michael ha anche tante questioni che lo fanno sentire a metà in sospeso non è del tutto inglese infatti è di etnie miste questo lo fa sentire sempre un po' a metà perché non è abbastanza nero da essere nero non è abbastanza greco cipriota da appartenere alla comunità ellenica però è anche gay ma in un senso molto queer del termine e quindi una volta entrati in università si trova di fronte a una serie di scelte che sono quelle del trovare dei gruppi insomma trovare insomma delle associazioni nelle quali inserirsi e poi partecipare attivamente prova con diverse associazioni tra cui anche quella LGBT ma in quelle in particolare fatica a trovarsi del tutto a posto perché essendo a metà tra tutto essendo tante cose tutte insieme la sua identità è difficilmente inquadrabile in un solo tassello e invece scopre che avvicinandosi all'associazione drag della propria università ha trovato un po' il suo spazio dove potersi esprimere e dove poter creare il suo personaggio del palco il suo personaggio quello dove lui può esprimere tutto se stesso ovvero The Black Flamingo si trasforma nel fenicottero nero e è una storia che è scritta in versi un po' come qualche anno fa vi avevo parlato di The Poetics di Elisabeth Assevedo che è un libro devastante e qua secondo me la poesia è meno potente molto meno potente che nella Sevedo e nell'espressione della Sevedo però è comunque interessante e riesce comunque a trasmettere tutte quelle sensazioni a metà che è così che insomma noi lettori ci sentiamo seguendo la storia di Michael un po' tutto a metà un po' tutto come se non si appartenesse a una cosa solamente ma si volessero comunque includere tutte queste discussioni insieme perché fanno parte sono tanti tasselli dell'identità di Michael è un libro che ci sono in inglese mi rendo conto e qua forse è molto in là nelle discussioni che avvengono nel nostro paese o comunque nell'editoria italiana però devo dire che questo libro è stato molto molto affascinante proprio perché non vuole definirsi non vuole incasellarsi e questo è il suo valore più grande quindi se state cercando una storia molto queer nel senso di mancata definizione e anche non voglia di definirsi questa è una storia molto carina molto agile la leggete anche super velocemente quindi consigliatissimo anche Black Flamingo poi andiamo a ritroso a ritroso io ci ho provato a non consigliarvelo però ok siamo qua ovviamente a parlare di The Starless Sea ovvero Il mare senza stelle di Erin Morgenstern surprise surprise no lo so me ne rendo conto ma tanto io ormai parlo di questo libro incessantemente perché spero che lo leggano anche i termosifoni detto ciò The Starless Sea chiaramente non è una storia incentrata sulla tematica LGBT chiarisco ma è una storia che include due personaggi gay quindi in questo caso assolutamente approvata come storia che fa parte di quello che vi dicevo un po' prima storie che hanno al proprio interno personaggi appartenenti alla comunità LGBT ma che poi sono incentrati su una storia che non parla solo di identità eccetera in questo caso ovviamente seguiamo quello che è il libro del decennio a mio parere e lo dico con grande convinzione in questo caso ci avviciniamo al mare senza stelle che è un luogo misterioso allora come descrivere la storia del mare senza stelle è complicatissimo in questo caso seguiamo la storia di Zachary che ha l'opportunità di accedere al mondo che noi non vediamo attraverso una porta ha avuto questa opportunità l'ha vista ma ha rinunciato all'ultimo minuto ne è rimasto spaventato da questo gesto che avrebbe del tutto cambiato la sua vita e quindi fatto finta di niente ha richiuso la porta e ha continuato con la propria vita un giorno però trova un libro che si chiama Sweet Sorrow cioè i dispiaceri dolci dispiaceri che sembra essere scritto raccontando proprio la sua storia e quindi una volta iniziato Sweet Sorrow che gli racconta da un lato dei miti delle fiabe che sembrano quasi sospese nel tempo e totalmente simbolici ma dall'altro raccontano proprio la storia di Zachary a questo punto Zachary non può più vivere senza scoprire dove sta il mare senza stelle e qual è il segreto che si cela dentro le porte inizia questa sua impresa nel ritrovare la porta e viene trascinato in quella che è una lotta molto più grande di quello che si aspettava arrivando e riuscendo a capire anche che cos'è il mare senza stelle dopo questo riassunto che sapete io odio peraltro fare e in un libro così simbolico in un libro così circolare in un libro così complesso parlare di trama quello che vi posso dire è che l'elemento LGBT plus in questo caso l'elemento gay della storia è molto marginale cioè seguiamo il nostro protagonista che si innamora a un certo punto ma dentro questa storia diciamo tutto è circolare tutto è fluido tutto ha senso e tutto si incasella perfettamente e ha come punto fortissimo ovviamente la scrittura della Morgenstern che qua penso abbia raggiunto dei picchi che se scrive un libro meglio di questo cioè cosa può scrivere meglio di Destarle? sì evidentemente fra dieci anni lo scopriremo no davvero questo lo dovete leggere questo è un ordine esce a luglio e da luglio in poi vi voglio a tutti su Destarle sì anzi probabilmente sarà un libro del Miss Fiction Book Club che non è morto è solo che mi conoscete sempre sulla scia di Destarle sì arriviamo a un mattonazzo che conoscete bene c'è una mia recensione sul canale dedicata ovvero il priorato dell'albero dell'arancia di Samantha Shannon in questo caso noi ci troviamo in una battaglia epica uno scontro epico in un mondo che è sull'orlo del collasso in questo caso noi seguiamo la storia di tre donne la regina Sabran Id che è una delle persone che hanno l'incarico di tenere dietro alla regina e Tanè che è un apprendista che si sta allenando per diventare cavaliere dei draghi e che insomma ci porterà dentro parti molto significative della storia in questo caso noi seguiamo proprio un mondo che sta per collassare perché la regina Sabran è l'ultima della sua stirpe ed è stato predetto anni prima quando la casata di Sabran avrà fine e tutti stanno facendo in modo che abbia fine ci sono attentati qualcuno cerca di ucciderla ma insomma tra l'altro Sabran non vuole figli e non riesce ad avere figli e infatti la profezia dice proprio che quando la sua casata avrà fine il mondo piomberà di nuovo sotto il dominio di forze oscure non addentrandomi dentro perché l'avventura è veramente molto molto intensa dentro questo libro e c'è una recensione molto lunga sul canale che vi linko qua sopra comunque andrà il link e in questo caso si crea una relazione lesbica tra due personaggi all'interno del libro che chiaramente diventa una parte molto significativa dell'opera anche se ovviamente in una seconda metà infatti uno dei motivi per cui questa storia mi è piaciuta molto è proprio perché si sviluppa molto lentamente come lettori abbiamo tutto il tempo sia per affezionarci che per seguirla e per crederla anche come molto molto realistica e significativa io questo ve lo consiglio sempre non è una lettura snella lo sapete ma in realtà se vi ci dedicate un po' alla volta ne verrete trascinati con grande facilità andiamo avanti e passiamo a cosa passiamo passiamo a Every Heart A Doorway di Sheenan McGuire Every Heart A Doorway è un libro che a me ha fatto molto arrabbiare quindi ve lo consiglio ma dovete tenere in mente una serie di premesse io penso davvero e sinceramente che Every Heart A Doorway a me abbia veramente tanto fatto arrabbiare perché lo trovo un tentativo mancato un'occasione sprecata Every Heart A Doorway ha all'interno diverse questioni che hanno a che fare con l'identità proprio perché seguiamo una sorta di scuola dove vengono accolti dei ragazzi che a un certo punto della propria vita si sono persi hanno come attraversato delle porte che li hanno condotti a un mondo parallelo ognuno nel proprio mondo ogni mondo è diverso e che in questi mondi hanno trovato scoperto o affrontato alcune delle cose più terrificanti che potevano vivere e allo stesso tempo sono stati immersi nelle proprie paure più profonde ma soprattutto non hanno potuto capire o non hanno potuto effettivamente vivere quella che era per loro una vera e propria rivelazione che detto così è molto confuso in effetti lo è un po' nel libro perché noi all'interno del libro purtroppo non seguiamo i ragazzi all'interno dei loro mondi ma seguiamo quella che è la terapia successiva cioè l'accoglienza in questa cave in questa diciamo villa dove la nostra protagonista segue ogni ragazzo e li aiuta a comprendere ciò che gli è successo per poter passare oltre nella propria vita e tornare alla vita normale tra queste storie c'è anche una storia molto bella molto toccante di un personaggio trans per sempre nel cuore ecco io avrei voluto leggere solo quella storia lì perché è molto toccante molto forte ciò che affronta è assolutamente intenso detto ciò purtroppo secondo me Every Heart A Doorway che c'è solo in inglese anche questo ha un difetto molto grande cioè che è una storia che dovrebbe concentrarsi su queste premesse che sono già di per sé secondo me incredibili ma poi si perde nel diventare un giallo che è un punto che distrae moltissimo e alla fine a te come lettore non te ne frega assolutamente nulla detto ciò però io penso comunque che vada data una possibilità in ogni casa questo titolo soprattutto per leggere queste parti che sono davvero molto intense e molto significative in più si parla anche di altre questioni si parla anche di assessualità che è un tema sempre molto poco affrontato devo dire che forse il motivo per cui ho più rabbia è che questo davvero poteva essere un libro incredibile invece è un libro a metà però se vi interessa approfondire soprattutto queste tematiche e vedere anche il parallelismo con i mondi è molto molto bello è molto brillante perché ogni mondo rappresenta esattamente quello che nella vita normale non riescono a fare i nostri protagonisti o comunque esprimono anche le loro paure più grandi i loro tormenti ciò che non riescono ad affrontare si parla di tante cose si parla di salute mentale si parla appunto di tematiche LGBT plus che occasione sprecata ma comunque lo metto qua perché ve lo consiglio perché secondo me comunque qualche spunto ottimo ve lo può dare soprattutto per le tematiche queer salto di palo in frasca perché arriviamo a un altro dei miei libri preferiti dell'anno scorso in questo caso è Trenny ve ne ho già parlato lungamente di questo titolo è l'autobiografia in questo caso le chiama confessioni di Laura Jean Grey Laura Jean Grey è la cantante degli Against Me che magari molti di voi non conoscono lecito ma per me che sapete sono cresciuta a pane e punk punk rock in questo caso diciamo che gli Against Me sono una di quelle band che comunque anche proprio per la propria protagonista la propria cantante sono stati una bella botta all'interno del panorama da punk anarchica eccetera a venduta delle major e dei grandi palchi no a parte gli scherzi insomma qua affronta tramite la propria storia un po' l'evoluzione di come da Tom siamo arrivati all'ora Jean che è stato qualcosa sotto gli occhi di tutti peraltro e tutto questo processo proprio sotto gli occhi di tutti penso sia forse ancora più traumatico che già di per sé il processo è traumatico è difficile molte volte perché insomma un po' per accettazione per comprensione un po' per i ruoli i processi che devi seguire all'interno della società le procedure eccetera eccetera insomma in qualche modo traumatico lo può essere quello si può vivere anche con molta tranquillità ovviamente e in questo caso noi seguiamo proprio l'evoluzione di Laura Jane perché da Tom e insieme alla sua band crescendo di notorietà sempre di più diventando sempre più grande come band accadeva qualcosa a livello personale quindi più cresceva la notorietà della band più avevano successo più personalmente Laura Jane viveva una crisi profonda personale perché non poteva esprimersi non riusciva nemmeno forse ad avere così chiaro chi era e insomma in cosa si identificava e questa spirale discendente della sua psicologia proprio perché pur facendo più soldi pur diventando più famosa come cantante e come band in realtà essere Tom era la cosa più insostenibile possibile e quindi insomma in questo caso seguiamo tutta la sua storia con toni molto crudi e molto onesti e questa autobiografia è magnifica quindi io ve la suggerisco tanto se poi siete appassionati di musica tanto quanto lo sono io amerete amerete tutto e cioè in questo caso c'è un passaggio anche molto significativo dove a un certo punto gli Against Me suonano con i Foo Fighters in uno stadio voi immaginatevi nella vostra vita avere una band e arrivare a suonare in uno stadio con i Foo Fighters eppure avere una salute mentale talmente a terra che quel momento diventa un inferno penso che sia un momento davvero molto toccante all'interno del libro perché in quel momento capiamo quanto stesse soffrendo veramente l'ora e quindi niente tra l'altro è una delle poche band punk rock e hardcore con un grande seguito che ha una cantante trans e leggete Trenny come sempre visto che siamo in tema passiamo invece c'è i fumetti che vi consiglio molti dei titoli che vedrete non sono una novità chiaramente e visto che ci troviamo in tema transessualità non sorprenderà nessuno ma parliamo di Cinzia di Leo Ortolani io questo fumetto non so più come dirvelo ma dovete leggerlo perché leggere Cinzia significa fare tante cose intanto questo libro va detto nasce come una sorta di scusa a posteriori perché Leo Ortolani ha trattato veramente Cinzia nel corso di Ratman in una maniera indecorosa e questo è il primo ad ammetterlo e quindi questo nasce come una sorta di tributo per poter dare una nuova dignità a questo personaggio e il personaggio di Cinzia è un personaggio che noi vediamo in tante vesti soprattutto quelle quotidiane le difficoltà che affronta dalle cose basilari a un viaggio in bus un viaggio in metro il lavoro il lavoro diventa uno dei temi più disumanizzanti all'interno di questo volume e Cinzia ci insegna tante cose soprattutto ci insegna una dignità immensa che credo in pochi altri riescano a trasmettere bene come lo fa questo personaggio affrontiamo tanti temi complessi che hanno a che fare anche con la comunità trans e devo dire Cinzia è forse uno di quei personaggi che più di tutti in questi anni mi è rimasto impresso e mi ha ispirata proprio perché io trovo esemplare e davvero toccante il suo non perdersi mai il suo sapere chi è e averlo ben preciso ben in mente senza tribolare anche quando ci sono situazioni dove vorrebbe sacrificare se stessa e a volte è anche costretta a farlo però Cinzia è una forza d'animo esemplare non so io sono una macchia e lo capirete solo leggendo questo libro non so più come dirvi che dovete leggere Cinzia perché Cinzia vi fa ridere da morire ma tanto cioè proprio tanto però cinque pagine dopo vi trovate che avete le lacrime fino alle ginocchia leggete Cinzia fatemi questo favore vado avanti e sempre in tema transessualità fumetti brutti la mia adolescenza trans che io ho preferito di gran lunga rispetto a romanzo esplicito che è il suo primo debutto la sua prima graphic novel pubblicata sempre per Feltrinelli Comics la mia adolescenza trans racconta contratti come vedete grezzi insomma un po' in stile iole cioè fumetti brutti tante cose esplicite anche tante cose scomode della sua adolescenza tutte le sensazioni a cavallo che ha provato e ci troviamo in un contesto come quello di una Sicilia dove una ragazza cerca di trovare la propria identità pur non conoscendola e affrontando tutti quelli che sono i contesti complessi del nostro contemporaneo di questo presente quindi affronta il bullismo una famiglia che non capisce proprio bene passiamo attraverso l'accettazione del proprio corpo passiamo attraverso la scuola l'ambiente scolastico e cosa significa per una persona trans ma poi anche una vita online una vita online che la porta in situazioni di incontri online situazioni sessuali e sessualmente esplicite all'interno del libro ci sono anche i rapporti con cose che la fanno evadere insomma la cosa che davvero di Iole più mi colpisce cioè di fumetti brutti è proprio la disarmante sincerità con cui si racconta e questo ma anche nelle sue strisce quotidiane che vedete su Instagram insomma si racconta con un disincanto e una trasparenza tale che sono davvero disarmanti perché non tutti ne avrebbero il coraggio e non si può non amare questo modo di raccontarsi perché è veramente molto molto unico e penso che la sua forza sia soprattutto qui e con questi tratti proprio grezzi questi tratti brutali quasi certe volte riesce a raccontare con pochissimi contesti e pochissime righe tutto tutto quello che le passa per la mente tutto ciò che le succede e lo fa con un modo davvero così diretto che spiazza subito il lettore per me è un titolo che consiglierei davvero moltissimo a tutti ovviamente anche questo suggerimento non stupirà nessuno e stiamo parlando del principe la sarta di Jen Wang in questo caso noi ci troviamo in un contesto parecchio particolare e super queer infatti ci troviamo davanti a un personaggio che ha a che fare con il cross dressing ma anche con un'identità diciamo poco identificabile e un contesto molto complesso perché infatti è un principe è un principe dal quale ci si aspetta determinate cose ma il nostro principe ha un alter ego che si chiama Lady Cristallia e Lady Cristallia è la sua versione RuPaul's Drag Race in pratica cioè Lady Cristallia è bellissima ha questi abiti magnifici tutti la ammirano ma nessuno sa chi sia e infatti è il grande segreto il grande segreto che trova la grande collaborazione della nostra sarta che cuce i vestiti e assume un ruolo davvero importante all'interno della vita del nostro principe però tra di loro spesso ci sono delle incomprensioni ci sono parole anche molto pesanti che volano proprio perché spesso le proprie difficoltà vengono proiettate sull'altro questo è un altro aspetto molto molto prezioso di questo volume è una storia dolcissima è una storia molto carina che davvero penso possa spiegare anche la voglia di esprimersi in maniere alternative in una maniera dove l'espressione maschile non è sicuramente quella tossica ma ha una presa del tutto diversa molto carino davvero io ve lo suggerisco molto spesso e trovo che sia una storia davvero dolce e quindi anche in questo caso passo a una delle ultimissime letture in questo caso è un manga di J-pop che si chiama La mia prima volta My Lesbian Experience With Loneliness ovvero la mia esperienza lesbica con la solitudine la nostra protagonista è esattamente un personaggio che vive un po' sospesa non sa cosa vuole fare non sa chi sia veramente e vive molto in balia dei propri genitori che ha continuamente paura di scontentare e nel corso degli anni però si trova di fronte a numerosi episodi di depressione la sua salute mentale vacilla e dalla famiglia non viene aiutata a sufficienza e non viene compresa a sufficienza ma man mano che va avanti scopre che la sua salute mentale è legata soprattutto a molto di non detto molto di non esplorato tra cui anche la sua sessualità infatti la mia prima volta si apre con la nostra protagonista che ha prenotato un incontro con una escort che apparentemente sembra una cosa super trasgressiva ma in realtà per la nostra protagonista diventa un'esperienza che le apre molte porte non perché succedano cose molto particolari ma semplicemente perché si trova di fronte a dover fare i conti con quella che è la propria sessualità o con quello che è il proprio orientamento sessuale perché infatti non sa bene definirsi e in più in tutto ciò scopre di voler disegnare fumetti scopre che quello è il sogno della sua vita nonostante sia estremamente scoraggiato dai genitori e proprio il primo successo che in questo caso coincide con la scrittura di questo volume diventa l'occasione per provare a buttarsi provare a scoprire qualcosa di più sulla propria sessualità e sul proprio corpo e questo è veramente un manga molto toccante io l'ho letto poco tempo fa a fronte delle tematiche che sapete a me sono molto care come quelle della salute mentale in più ci sono diversi contesti secondo me all'interno di questo racconto che sono molto ben chiari nella loro complicazione cioè nel quanto siano situazioni che è inevitabile che facciano sentire la nostra protagonista oppressa e schiacciata che le provochino ovviamente delle ripercussioni anche sulla salute mentale trovo che sia davvero molto bello e una delle letture migliori che ho fatto ultimamente quindi io è chiaro che ve la suggerisco ho iniziato anche questo che è lettera a me stessa che è la fase 2 di questo libro che è appena uscito e in questo caso invece noi affrontiamo dei piccoli temi sono dei piccoli racconti legati proprio a qualcosa di particolare che magari era già successo e sui quali la nostra autrice riflette legato proprio a tutte queste tematiche e devo ancora finirlo perché mi manca qualche storia però toccantissimo qua preparatevi perché non è sicuramente un volume molto leggero ma allo stesso tempo penso racconti anche un'esperienza molto interessante legato alla salute mentale a quali sono gli effetti della salute mentale quando non ci si riesce ad esprimere quando la famiglia non riesce a guidarti nello scoprire anche chi sei bene oggi direi che siamo arrivati in fondo volevo fare anche un video tbr ma sapete che le tbr portano sfiga quindi spero di aggiornarvi presto con le nuove letture che effettivamente ho fatto questo mese in modo da darvi anche altri consigli se avete letto qualcosa di estremamente interessante che magari vi avevo consigliato nei video precedenti eccetera fatemelo sapere sono super curiosa io direi che per oggi più o meno è tutto alcuni titoli ovviamente li avete già sentiti abbondantemente su questo canale ma sono titoli che amo molto quindi ogni occasione è buona e io direi che per oggi è tutto prima di lasciarvi volevo fare un piccolo shout out ovvero alla libreria Igor che come sempre qua a Bologna è una libreria lgbt che sta da senape quindi zona santa croce zona fratello fondo fratello e insomma supportare questo tipo di realtà secondo me è estremamente importante loro sono i miei librai preferiti di sempre quindi ogni occasione è buona per parlare di Igor e niente io direi che per oggi è tutto spero che il video vi sia piaciuto insomma ci sentiamo giù nei commenti se avete anche dei suggerimenti e insomma se avete letto qualcosa che vi è piaciuto particolarmente direi che per tutto il resto invece ci vediamo al prossimo video ciao